L'orizzonte per noi esseri umani rappresenta il confine più lontano. È la linea che delimita il nostro campo visivo e il nostro raggio di indagine. L'uomo nei secoli si è ingegnato per ampliare la sua visuale cercando soluzioni tecniche e sviluppando invenzioni. Ma è solo negli ultimi 50 anni che ha fatto i passi più significativi con una rivoluzione silenziosa che ha trasformato profondamente la nostra prospettiva sul mondo. Gli scienziati hanno lanciato nello spazio un esercito di satelliti che sorveglia dall'alto il nostro pianeta. Come sentinelle osservano e registrano ogni cambiamento sulla terraferma, nel mare e nell'aria. Come angeli custodi ci aiutano a proteggere il nostro pianeta. Grazie ad essi vediamo il mondo da una nuova prospettiva. Possiamo osservare la terra dallo spazio. Grazie ad essi vediamo il mondo da una nuova prospettiva.